Un minuto, un solo minuto per ascoltare, guardare, riflettere, tutto in italiano. Nel cuore della notte di solito è buio, è buio pesto e serve qualcosa che faccia luce. La luce può essere utile, può essere utile se cerchiamo nel posto giusto e se cerchiamo le cose giuste, se ci poniamo le domande giuste. Se noi ci poniamo delle domande che portano altro buio nella nostra vita, allora la luce non può servire. La lampada a olio, la torcia, il lampione o semplicemente una lampadina non servirebbero a noi. Poniamoci le domande giuste. Italiano in Italia Per imparare l'italiano con un italiano in Italia